Il mio canale preferito! Woohoo! Wormotion! Iniziamo la sfida del cibo! Ecco il nostro primo concorrente! Questo è Max! Dove sono tutti gli altri? Sembra che qualcuno sia appena atterrato! È Ashley! Uh, chissà chi è il terzo! Ed ecco la terza concorrente! Sua maestà Betty! La vincitrice di tutte le sfide gastronomiche in città! Bene concorrenti, siete pronti? Iniziamo la nostra sfida! Lasciami fare gli onori! Secondo le regole della nostra sfida alimentare, il colore definisce la dimensione del cibo! Rosso significa gigante! Blu significa normale! E il verde significa che il tuo cibo sarà minuscolo! Iniziamo! Wow! È enorme! Un hamburger normale per Ashley! Un piccolo hamburger per Betty! E un gigantesco re degli hamburger per Max! La regola è che devi mangiare il tuo hamburger in un boccone! Facile! Scommento che non puoi farcela! Wow! È stato fantastico! E io mangerò solo il mio hamburger! Niente di speciale! Beh, signore! Auguratemi buona fortuna! Penso sia finita! Betti, premi il pulsante! Finalmente Betty riceverà cibo gigante! E ad Ashley toccherà il piccolo! Questo è ridicolo! Non si riesce neanche a prenderlo! Questo yogurt! Prendiamo i cucchiai! Ecco, i vostri cucchiai! Cosa? Ma ci vorranno secoli per finire questo yogurt! Non è affatto divertente! Le dimensioni non contano! Ciò che conta è quanto velocemente mangi! Va bene! Buona fortuna, Betty! Come faccio a mangiarlo? È impossibile! Ops, scusa, Betty! Ehi, dov'è il mio cibo? Pronto? È una sfida alimentare o cosa? Ciao, patatine! Dov'è la mia porzione? Oh, così piccolo! Mini tortilla, chips! Dove siete miei giganti? Oh sì, chips giganti per un atleta come me! Devo solo riuscire a aprirli! So io cosa fare! Un grande salto! Ce l'ho fatta! Cosa? Qualcosa non va? Posso gestire facilmente la mia mini busta? Non cosi in fretta, Ashley! Non dimenticare la salsa! Cosa? Ma è enorme! Dov'è la mia salsa? Oh, è proprio piccolissimo! Ah, perdente! Ma ci proverò! Ops, ho già finito la salsa! Posso avere la tua? No! Sei solo in questa sfida! Cosa abbiamo questa volta? Chi otterrà il cibo grande e chi quello minuscolo? Signore e signori! È un peperoncino piccante! Sorpresa! Enorme! Regolare! E piccolino! Oh no! Come lo mangio! Facile! Un peperoncino rosso normale non è così spaventoso! Morty! Ingoia! La mia lingua! È un peperoncino un sacco piccante! Non ce la posso fare? Non preoccuparti, Ashley! Guardami! Bam! Non era così forte! Stupendo! Ho pulito il mio karma! Va bene! Posso farlo anch'io? Questo peperoncino non mi ucciderà! Sì! L'ho fatto! Ma come ha fatto? Aspetta! Sta arrivando qualcosa! Questa sfida è come giocare col fuoco! Un nuovo round della sfida del cibo! Beviamo un po' di cola! Ognuno ha la sua taglia! Uffa, non mi diverto più! Ho ricevuto di nuovo la piccola porzione! Tutta questa sfida è truccata! Un rivale in meno! Chiamami Ashley! Ti aspetto! Beh, è ora di bere la mia Coca-Cola gigante! Ma non è ancora finita! Il compito è mettere una mentos nella Coca-Cola e berla! Va bene! Nessun problema! Alcuni mentos e... Non succede niente! Che c'è di così difficile? È molto semplice per me! Un solo mento in questa lattina gigante! Qual è il problema? Ok! Ma questa era un'intera fontana! Questa è la sfida alimentare più assurda di sempre! Ok, ragazzi! Premiamo il pulsante! Che colori escono? Sì! Sono diventato rosso! Che piatto sarà questa volta? Patatine fritte! E vai! Patatine fritte XXL! Beh, ti riceverà del cibo minuscolo! Stai dicendo che sono patatine fritte? Per davvero? Non ci credo! Solo patatine normali! Niente di speciale! E ora ecco la tua sfida per questo round! Mangia tutta la salsa usando le tue patatine! Ok! Via! Che piccolo barattolo sarà veloce! Sembra una salsa con patatine fritte! Non patatine con salsa! Lo mangerò con le mani finché nessuno vede! Qualcuno vuole la salsa? Max, quanto ti manca? Non ce la faccio più! Vorrei davvero che questo cibo finisca! Mi chiedo quale sarà il cibo del prossimo round! Una ciambella! Assurdo! Questa è la ciambella più grande che abbia mai visto! Ed è tutta mia! Maleducata! Ok! Mangeremo solo le nostre ciambelle! Una mini ciambella scompare rapidamente nella bocca di Max! Adoro le ciambelle qualunque esse siano! Lo sento! Una ciambella gigante nella mia zona! Eccola! Tieni le manette! Pagherò quello che vuoi per questa ciambella! Il mio sogno! Cosa si aspetteranno i nostri concorrenti in questo round? È dolce al cioccolato! Betty ne prende uno normale! Max, uno piccolino! Ehi! E io! Voglio anche io la mia torta al cioccolato! Wow! Tutta per me! Una normale tortina al cioccolato! Che problema c'è? No! In due morsi ho finito! Cosa c'è dentro il pacco? Una briciola di cioccolato! È stato facile! Il mio gigantesco amore al cioccolato! Non vedo l'ora di mangiarti! Wow! È così grande e reale! Puoi davvero mangiartela tutta quanta? Incredibile! L'ultimo boccone! Il più dolce! Ok, ho finito! Non è stato così difficile! Ti è piaciuta la nostra sfida alimentare? Quindi commenta qui sotto e dici quale formato di cibo ti è piaciuto di più! Piccolo? Normale? O gigante? Inoltre premi il pulsante iscriviti, metti like al nostro video e clicca sulla campanella! Non perderti nessun fantastico video di WooHoo Wamosun!